Musica, tornano gli stadio con un nuovo disco e un nuovo tour. Sentiamo Laura Sansavini. A 26 anni da Stadio Mobile Live, il primo album dal vivo degli stadio, la band torna sui palchi con i suoi successi. Uno spettacolo antologico che racconta la storia del gruppo, canzoni manifesto della musica italiana e nuovi brani che regalano la stessa energia. A partire dall'ultimo singolo, Tu sei l'amore di cui ho bisogno. Ci sono tanti momenti nella vita nei quali tu devi andare a trovare l'energia per continuare, per fare quello che hai in mente di fare. E allora delle volte vai cercando in giro questa energia, negli occhi di una persona, nell'entusiasmo. Un entusiasmo immutato da 40 anni, quando Correri a Bologna diede vita alla band. Dagli esordi con Banana Republic di Dalle De Grigori, che gli stadio accompagnarono in tour, fino ai grandi palchi come Sanremo. Quattro decenni sulla scena e l'orgoglio di scoprirsi riferimento per le nuove generazioni. Poi scopri che ci sono giovani artisti che ti vengono a cercare. È bellissimo perché è meglio di qualsiasi classifica, di qualsiasi disco d'oro. Perché hai seminato, ma hai seminato per far raccogliere della musica.